Lo scorso weekend è calato definitivamente il sipario sulla stagione del Girona F. Gli ultimi 90 minuti hanno decretato i verdetti che mancavano all'appello, vale a dire la vincente dei play-off e la quarta retrocessione in eccellenza. Facciamo ordine e partiamo dalla finalissima play-off e dalla spettacolare impresa del Fano. La gara è stata disputata sul campo della Vigor Senigallia in quanto meglio classificata al termine della regular season. La vice capolista non è riuscita a far valere il fattore casa e soprattutto il vantaggio di poter contare su due risultati. Il gol di Nappello dopo due minuti di gioco ha spezzato subito l'equilibrio ed è risultato alla fine il gol vittoria. La Vigor ha provato a raddrizzare il match creando diverse occasioni ma il Fano è stato bravo a difendersi con ordine e tenere botta. Grande festa in casa Granata, una vera e propria impresa considerando che gli uomini di Mosconi in entrambi gli spareggi play-off non hanno mai avuto il favore del campo essendo obbligati soltanto a vincere. Come sappiamo la vittoria dei play-off in Serie D non garantisce nessun salto di categoria ma consentirà alla società marchigiana di partire da un punteggio più alto nell'eventuale graduatoria di pescaggi. Al termine del match però il presidente russo ha attaccato gli ultras Granata e si è dichiarato pronto a lasciare il timone della società. Una spaccatura, quella tra la presidenza e l'ambiente Fano da tenere monitorata in ottica futura. La quarta squadra che non è riuscita a mantenere la categoria è il Roma City. La squadra dell'Interland della capitale è retrocessa nel campionato di eccellenza laziale. A fare festa è stato il notaresco mentre il Roma City è andato a fare compagnia alle già retrocesse Tolentino, Montegiorgio e Vastese. Un play-out in cui è successo praticamente di tutto con i laziali due volte in vantaggio e altre tante volte raggiunti prima del gol salvezza messo a segno da scimia al quinto minuto dei tempi supplementari. Grande festa in casa rosso-blu per una salvezza davvero esperata. Un cammino che ha previsto nello scorso weekend anche lo spareggio dentro-fuori contro il Montegiorgio avendo chiuso in campionato a pari punti. Per quanto riguarda il Pineto, la squadra di Mister Amaulo dopo la vittoria del campionato sta continuando la sua super stagione sotto tutti i punti di vista. Questa domenica sul campo neutro di Gavorrano i Bianco-Blu sfideranno la Gianna-Erminio per la finale di Coppa Italia di Serie D. Occasione importante per impreziosire un'annata fantastica. E non è finita qui perché il Pineto, grazie alla vittoria per 3-1 contro l'Arezzo, ha staccato il pass anche per la semifinale della Pollo Scudetto. Manifestazione riservata alle nove vincitrici dei gironi di quarta serie. L'andata della semifinale si disputerà mercoledì 31 maggio sul campo del Sestri Levante. Ritorno a Pineto previsto per il 4 giugno.